In questa intervista con Arnold Bronstetter per Sportsnet, un reporter canadese, un media canadese, Jon Jones ha rilasciato le dichiarazioni che ha detto per la prima volta innanzitutto e poi interessantissime. Adesso analizziamole, sentiamo in un secondo, le traduciamo e poi vi do anche la mia opinione e la nostra opinione su questo matchup che propone lui con Alex Pereira, soprattutto con questa specifica che ha aggiunto lui. E credo che se qualcuno ha la scelta tra Jon Jones ritirando o Jon Jones combattendo Alex Pereira, credo che tutti prendono la scelta l'ultima. Qui intanto, bellissima questa cosa che dice Arnold Bronstetter, che dice innanzitutto la gente si sta lamentando per il discorso Jon Jones Pereira, non ha senso, c'è Aspinall, però Arnold Bronstetter dice subito sicuramente qualsiasi fan, e io mi includo e metto la firma, parlo anche a nome di mio fratello su questa cosa e penso e spero di parlare a nome di tanti appassionati, Arnold Bronstetter ha detto se i fan dovessero scegliere tra Jon Jones che non combatte più e si ritira e Jon Jones che affronta Alex Pereira tutti mettebbero la firma su Jon Jones contro Alex Pereira per rivederlo combattere ancora e in quel matchup e qua vedete la domanda più grossa è ma il titolo pesi massimi dovrebbe essere in palio in un match tra te Alex Pereira? questa è una questione che non era ancora mai stata sollevata da nessuno a Jon Jones bellissima domanda qui di Aaron Bronstetter, gran lavoro come sempre che dice ma vorresti questo match con il titolo pesi massimi difendendo il titolo pesi massimi contro Alex Pereira e Jon Jones inizia già a fare di no con la testa perché c'è un campione ad interim ne parlavamo l'altro giorno sia in live che nel video che poi abbiamo pubblicato nei video che poi abbiamo pubblicato il discorso la gente se la sta prendendo con Jon Jones ma non riguarda Jon Jones il discorso riguarda la heavyweight division cioè il problema grosso al momento sì, tutti vorrebbero vedere Jon Jones contro Thomas Pinal perché è un dream match è un match che però a mio avviso cioè è un dream match dal punto di vista stilistico e delle skills ma non c'è motivo di pretenderlo tra virgolette nel senso che Jon Jones ha già dato Thomas Pinal è di una nuova generazione e come dicevamo l'altro giorno in live non devi affrontare le nuove generazioni finché diciamo ad oltranza non devi affrontare le nuove generazioni ad oltranza anche perché poi questo sport ti punisce e fra l'altro Jon Jones quando dice Aspinal non ha ancora fatto nulla che non abbia ancora fatto nulla ovviamente non è vero è di un'esagerazione lo sta usando anche per negoziare con la UFC e per infastidire Aspinal però di fatto cioè non è che Aspinal abbia non so 10 match contro leggende o nomi mega affermati da tanto tempo a questa parte quindi davvero sia un matchup irrinunciabile cosa che invece Alex Pera se andiamo a vedere con quello che ha già fatto anche in termini di titoli vinti eccetera è un matchup più prestigioso da questo punto di vista il problema non riguarda Jon Jones il problema riguarda la heavyweight division riguarda il fatto che la UFC abbia creato un titolo ad interim per avere un secondo match titolato in quella cup del Madison Square Garden poi Aspinal giustamente anche voleva combattere e addirittura ha difeso quel titolo ad interim quindi il problema è della heavyweight division il problema non riguarda Jon Jones il problema riguarda la UFC e i pesi massimi bravissimo qui giustissimo Jon Jones il titolo ad interim non doveva esistere fin dall'inizio ed è vero almeno non in quel momento in quella card piuttosto bisognava aspettare un po' anche come tempistica perché tu adesso hai un secondo campione che è Aspinal con la cintura ad interim da un anno l'unico motivo per cui è stato indetto e creato un titolo ad interim è perché io mi sono infortunato e c'era il bisogno o comunque volevano in termini la UFC voleva mantenere l'importanza l'importanza elevata per quella card del Madison Square Garden è vero ma Sergei e Aspinal non dovevano combattere per un titolo ad interim in generale ed è vero io mi trovo d'accordo senza nulla togliere a nessuno dei due ci mancherebbe specie ad Aspinal però quel titolo ad interim è stato buttato lì perché ha detto ok si facciamolo sapendo fra l'altro poi fin dall'inizio perché Dan White l'ha detto che la situazione sarebbe stata quella lì cioè si sapeva chi sarebbe recuperato questo match che Jon Jones sarebbe stato fuori tanto allora a quel punto in termini di logica titolo ad interim lo vuoi fare ci sta perché Jon Jones stava fuori tanto fallo qualche mese dopo almeno così c'è un build up che è sensato per poi andare all'unificazione o eventualmente per poi dare il titolo ad Aspinal in caso di ritiro o quello che sarà dovevano essere soltanto un match sostitutivo o un main event si main event ovviamente no specie senza titolo non lo erano comunque ma no però sì è stato prematuro fare un match per il titolo all'interno tra loro due sono d'accordo sono d'accordo e adesso ci sono un sacco di persone confuse anche questo è vero qui dice una cosa che invece secondo me è una cazzata perché dice quando hai un campione che è stato è così dominante da così tanto tempo come lo sono stato io non ha senso mettere un titolo ad in time questo non è vero per due motivi uno John Jones negli ultimi anni ha combattuto una volta ha combattuto una volta sola in questa divisione e sì lui è stato un campione dominante il più dominante di tutti per me il got appunto però nei massimi leggeri invece nei pesi massimi si è preso tre anni per salire di categoria ha vinto il titolo in un match con il titolo vacante si è infortunato non vale lo stesso discorso cioè se per la questione della carriera e quello che ha fatto ovviamente conta tutto per questo non è che conta che ah no sì ma da campione massimi leggeri era stato mega dominante mega longevo e allora per questo motivo devi evitare di fare un titolo ad interim ad ogni costo no no se è appena arrivato nella nuova divisione hai vinto il titolo di infortuni ci sta a fare il titolo ad interim le circostanze dovevano essere diverse però qui John Jones ha detto una cosa che non ha senso invece ti interessa ebbe che ci fosse un titolo in palio contro Alex Pereira o semplicemente vorresti che fosse un match indipendentemente dal premio dalla posta in palio perché un match con Major News contro Alex Pereira sappiamo che dalla nuova era della UFC dopo l'acquisizione di Endeavor la UFC tendenzialmente non fa mai se non per casi particolari come Conor McGregor main event di card numerate senza un titolo in palio ovviamente John Jones contro Alex Pereira potrebbe essere main event sopra quasi a qualsiasi match nella storia della UFC anche senza bisogno di un titolo questo lo sappiamo tutti sarebbe bello combattere per il titolo presi massimi ma sarei anche disposto a rendere vacante il titolo presi massimi John Jones con una dichiarazione grossa importantissima che personalmente non mi stupisce perché abbiamo già visto che ha reso vacante adesso per lui la cintura non ha più l'importanza che aveva una volta perché tra virgolette ne ha vinte tantissime ora sappiamo che qua è un discorso particolare non è che dipende dal mindset di ognuno c'è qualcuno che la vede come ogni volta che combatto per il titolo ne vinco uno nuovo e c'è qualcuno che invece dice che lo difende e ha tot difese titolate ovviamente entrambi i ragionamenti sono legittimi a John Jones adesso le cinture e la cintura interessa fino a un certo punto e qui dice chiaramente sarei disposto a rendere vacante la cintura presi massimi come ha fatto con quella massimi leggeri ho reso vacante ho reso vacante il titolo dei massimi leggeri e non avrei nessun problema andrebbe benissimo per me rendere vacante anche questa cintura qui e rendere vacante quando sono al top secondo i miei termini per poter fare tanti tanti soldi dopo aver fatto tanti tanti soldi e adoro la situazione e la posizione in cui sono in questo momento e qui gli viene in mente vedete proprio gli si illumina lo sguardo perché è qualcosa che probabilmente gli è venuto in mente soltanto in questo momento qui e lo scopriremo maggiore ragione andando avanti col pezzo finale ecco qui vabbè John Jones segue la UFC meno del fan più occasionale del mondo probabilmente nel senso che dice affrontare Pereira per la cintura BMF sarebbe una figata soltanto che la chiama BAMF belt la BAMF belt invece di BMF quindi vabbè John Jones che fa questa gaff e ci regala potenzialmente un ottimo meme ma dà una grande idea molta gente lo vedrà come un pure questo cioè a tutti i costi fa così tanto pur di affrontare pur di evitare Aspinall e di affrontare eventualmente Alex Pereira cioè è disposto addirittura a mollare una cintura e a chiedere quella BMF pur di evitare Tom Aspinall io non la vedo così io la vedo come innanzitutto sta trattando e sta buttandogli delle idee che comunque sono spettacolari o potenzialmente geniali per lui quale può essere il risvolto di questa cosa adesso finiamo di sentire le sue parole può essere che la UFC veramente gli offra cose inimmaginabili in termini economici per affrontare Aspinall e alla fine lui lo faccia che si faccia il match con Pereira magari davvero per la cintura BMF magari davvero senza la cintura presi massimi in palio e con Giorgio che la rende vacante la cintura BMF ragazzi ovviamente adesso c'è la Holloway ma sappiamo che è una cintura che può essere riassegnata o addirittura magari tra virgolette fare come se ce ne fossero due è un concetto particolare entrambi sia io che Alex Pereira abbiamo due cinture in due categorie di peso entrambi abbiamo due cinture in due categorie di peso e nella sera del nostro match tutti e due combatteremmo per la nostra terza cintura che sarebbe quella BMF come la chiamano mi fa scassare è impossibile è impossibile che John Jones non sappia come si chiama quella cintura cioè non me lo spiego non so se lo sta facendo apposto a cosa però è impossibile che non sappia come si chiama la cintura BMF non ci riesco a credere a questa cosa quanto sarebbe figo dice poi John Jones a me piacerebbe non sarebbe il match giusto da fare non sarebbe il match più meritocratico però se John Jones davvero non vuole affrontare Aspinall non vuole necessariamente più difendere il titolo presi massimi beh ragazzi cioè piuttosto che si vitivi questa è una signora seconda opzione ne?